E' stato firmato dal prefetto di Chieti Armando Forgione e dalla comunità dei padri passionisti rappresentati da padre Vincenzo e padre Marcello l'atto di concessione in uso gratuito dell'abbazia di San Giovanni in Venere di proprietà del FEC, il fondo per gli edifici di culto del Ministero degli Interni. Il rinnovo del legame tra passionisti e il Monumento Nazionale è avvenuto nella cornice del Palazzo dei Priori alla presenza del sindaco di Fossacesia di Giuseppe Antonio, degli assessori Sgrignoli e Finoro, del vice prefetto vicario Domenica Calabrese e del funzionario FEC presso la prefettura di Chieti Micaela Fasciani oltre a Maurizio Formichetti in qualità di ufficiale erogante della prefettura. Con l'atto il FEC ha proceduto dopo 20 anni a dare in concessione l'abbazia, le opere custodite al suo interno e le aree esterne del complesso proprio ai padri passionisti che avranno il compito di custodirle e valorizzarle. Il prefetto Forgioni. Io penso che il grande impegno che sta approfondendo il sindaco e la sua amministrazione per poter valorizzare ancora più di quello che è San Giovanni in Venere sia già un grande impegno, lo devo dire e lo voglio sottolineare perché fin dal primo momento mi sono reso conto quando inaugurammo il portale qualche mese fa che le potenzialità di San Giovanni in Venere sono ancora poco espresse, però grazie a questo impegno del sindaco credo che potranno avere un palcoscenico ancora più ampio e mostrare le bellezze che ha all'interno e all'esterno San Giovanni in Venere. Una firma che impegna tutti a tutelare un patrimonio che non è solo di Fossacesia ma dell'Italia intera, l'occasione è stata giusta per rinnovare l'invito a tutti gli enti interessati di dare la massima disponibilità a porre in essere gli interventi utili per migliorare la fruibilità dell'abbazia e soprattutto dell'area monumentale per la sua conservazione. Il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Ci dobbiamo impegnare tutti, io penso tutti significa dalla regione, provincia, altri enti e comune per valorizzare un patrimonio di inestimabile valore che riguarda appunto l'Abruzzo.